Terza edizione per McKenna Bar Italia Hub, una vetrina importante nella quale incontrare i professionisti del bar e non solo. Siamo qui con l'approccio consulenziale che da sempre ci contraddistingue, con un occhio nuovi trend e presentando ai professionisti quali sono le opportunità all'interno delle nuove occasioni di consumo. Quindi proponiamo i nostri prodotti, patatine e finger food dall'anima innovativa che si adattano all'happy hour e con attenzione anche all'abbinamento con dei consigli sul food and drink pairing. In particolare in questa edizione le crispers sono la patatina innovativa che ci sentiamo di consigliare ai bartender più innovativi. Una patatina dalla forma B, taglio ondulato, buccia e rivestimento croccante, un prodotto eclettico per le P-Hour come contorno innovativo e come finger food da reinventare in tanti modi diversi. E poi in esclusiva a questo evento i tre nuovi finger food della gamma Petizer McKenna che si reinventano con forme e ricette esclusive. Abbiamo bocconcino patate e raclette, bocconcino pollo e salsa barbecue e i loaded cheese nachos, dei triangoli che sono ideali per rendere l'aperitivo ancora più invitanti. Tante opportunità, tanti nuovi prodotti e ovviamente la professionalità di McKenna.